Diverse sono le novità inserite dalla legge finanziaria e dal protocollo sul welfare in tema di pensioni. Alcune novità sono quelle relativi alle quote, altre novità sono quelle relative alle finestre, che sebbene erano già state previste dalla precedente legge Maroni, sono state leggermente modificate dalle ultime normative. Cerchiamo di approfondire meglio questa questione con il nostro esperto di previdenza, con Gianfranco Pigliapoco. A partire dal 2008 ci troviamo in presenza di diverse opportunità che consentono la possibilità reale di andare in pensione. Le cosiddette finestre. È un termine che comunque da parecchio anni viene comunemente usato. Andiamo a vedere nel concreto quali sono queste finestre. Parliamo naturalmente in questa prima fase della pensione di anzianità e dobbiamo distinguere tra situazione di lavoratori con contribuzione esclusivamente da dipendente e lavoratori invece con contribuzione mista, dipendente e autonoma o esclusivamente da lavoratore autonomo. Dobbiamo fare un'ulteriore distinzione per coloro che hanno meno di 40 anni di contributi e coloro che hanno invece almeno 40 anni di contributi. Abbiamo detto nella precedente occasione che meno di 40 anni presuppone anche avere una età stabilita dalla normativa. Con 40 anni invece si può andare in pensione indipendentemente dal fatto di avere una determinata età, quindi senza limiti d'età. Vediamo nel concreto come funzionano queste finestre. Lavoratori dipendenti che maturano con meno di 40 anni di contributi, che maturano i requisiti entro il 30 giugno dell'anno, quindi entro il primo semestre, può andarsene in pensione a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Il lavoratore che invece matura i requisiti nel secondo semestre può andare in pensione a partire dal primo luglio dell'anno successivo. Se questo stesso lavoratore ha almeno 40 anni di contributi, può andarsene in pensione il primo luglio dello stesso anno se matura i requisiti entro il primo trimestre. Potrà andare in pensione a partire dal primo ottobre dello stesso anno se matura entro il 30 giugno. In questi due casi però la legge stabilisce un'età minima, che è quella di 57 anni. Se lo stesso lavoratore matura i requisiti entro il 30 settembre, può andarsene in pensione a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Se matura invece entro il 31 dicembre, quindi quarto trimestre, può andare in pensione a partire dal primo aprile dell'anno successivo. In questi ultimi due casi la legge non prevede il raggiungimento di nessun limite di età. Se poi andiamo a vedere le finestre di uscita dei lavoratori autonomi, ci troviamo in una situazione molto diversa. Se il lavoratore matura i requisiti entro il primo semestre, quindi entro il 30 giugno, può andarsene in pensione a partire dal primo luglio dell'anno successivo. Se matura invece i requisiti nel secondo semestre, può andare in pensione a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo. Se lo stesso lavoratore autonomo ha raggiunto invece i 40 anni di contribuzione, ha questa opportunità per andare in pensione. Se matura entro il 31 marzo, quindi primo trimestre, può andare in pensione a partire dal primo ottobre dello stesso anno. Se matura entro il secondo trimestre, può andare in pensione il primo gennaio dell'anno successivo. Se matura entro il quarto trimestre, può andare in pensione a partire dal primo luglio dell'anno successivo. Bene, abbiamo ascoltato dal nostro esperto Gianfranco Pigliapoco come funziona l'andare in pensione con più o meno di 40 anni contributivi per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti. Ovviamente ci sono delle deroghe previste soprattutto per il comparto del lavoro dei dipendenti pubblici e le deroghe sono sicuramente più favorevoli rispetto alla norma principale che ci ha appena illustrato Pigliapoco. Poi quindi i casi specifici vanno analizzati singolarmente in maniera molto più dettagliata. Per ora ringraziamo di nuovo il nostro esperto Gianfranco Pigliapoco per questa panoramica sulle cosiddette finestre per andare in pensione. Per Valesina TV è tutto.